Nuovo fine settimana e allora siamo collegati con Trebi Meteo e Nikos Chiodetto per scoprire le previsioni del tempo del weekend. Buongiorno Nikos. Buona giornata a voi, bentrovati a tutti. Che weekend ci aspetta? Condizioni di bel tempo nel corso di sabato sotto la provincia di Lecco e anche Como. C'è l'isterine un po' congolosi, una bella giornata, ampi rastrenamenti durante il pomeriggio, temperature in aumento fino a 20 gradi. Nel corso poi di domenica arriva una perturbazione e difatti domenica pomeriggio torneranno delle piogge, qualche temporale sulle chiese, quindi come incontro la seconda parte del giorno più instabile con la possibilità di qualche precipitazione, qualche temporale. Anche le temperature in lieve calo quando si stanno in temporali sulle chiese. Poi lunedì ritorna il bel tempo, quindi lunedì poi sole e anche parti di martedì. Insomma, sono giornate abbastanza tranquille. Il peggio sarà proprio domenica pomeriggio. E quindi possiamo dire che poi arriverà la primavera? È ancora presto. Probabilmente che il ponte del primo maggio scoprà poterci una fase più lunga, stabile, soleggiata e soprattutto molto viva in un aumento delle temperature. Grazie Nico Schiodetto e buon fine settimana. Grazie e buon weekend a voi.